Boom! Una partita di riscaldamento? No, 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 subito Ranked. Niente partite di riscaldamento, ragazzi. Le pussi fanno le partite di riscaldamento. Ranked subito. Hello everyone! Non so perché, ma questi hanno il nome di Itas. No, perché... Don't ban clash! Grandi questi compagni di squadra, ragazzi. Iniziamo benissimo. Io come dovrei vedere i nemici in queste condizioni. Io sono fuori di testa, ragazzi. Io prendo Glaz. Io, porca, te le faccio una strage. Io li disintegro tutti. Io li faccio... Io li spazzo via tutti qua. Io li faccio esplodere. Questi nemici. Allora, vediamo subito se mi ricordo come si fa. Bomma, distrutta. Adesso proprio che effettuerò la mia solita tattica dal balcone. Si spacca subito la porta con la pistola, così non sente i colpi del Glaz. Poi, prendo. Boom. Fuggi Mass. Guarda, non viene il faccocero. 10. Capcanis Aquarium! Ma perché puttano? Ma proprio quando cazzo stavo tirando la... Il timing di questo gioco è sempre lo stesso. E adesso dove andranno? Io ritrasto Glaz. Ma come... Ma che bevuta da pussi! Ma porca troia! Non mi posso nemmeno avvicinare! Cioè... Ho la mobilità di... Non so, di un tricheco. Porca troia, mi sento Gabbo di Square della mattina, così. Non so dove sono i nemici. Ok. Eh... One is VIP! One is VIP! C'è un tipo in VIP e qui hanno fatto tutti i bughi. Infatti, guarda là. È ricolosissimo. Eh, hanno pure il faccocero. Guarda, guarda, c'hanno quel faccocero. Guarda, guarda, guarda. Coglione. Uno sbombolato. Allora. È una tattica assai rischiosa questa. È una tattica rischiosissima. Però porca troia, sono Junk Extreme. Boom! Merda. Oddio. No! Coglione. Era dietro il cazzo di muretto. Non ci posso crackere. Ecco is in sight. Porca te l'ho fatto due nemici. Con Glaz sono una cazzo di buca. Sono pure il primo nella squadra. Push, guys. Push. Good job! Stava cadendo il caricatore. Good job! Buono questo round vinto. Ci ha rifocillato. Però non posso più prendere Glaz ormai. Ormai conoscono la mia tattica. Mi serve un nuovo operatore. Porca troia, mi sento... Mi sento gigante oggi. Buono. Questi hanno il castle. Questi si chiudono dentro. Porca troia, li fiuzzo pure le cervelle. Dio santo. Allora, questo round ve lo dico. Almeno due kill le ammollo. One is vip, one is vip. No, vabbè, non è possibile! Sto facocero, dai. Ce la possono fare? Rook, rook upstairs, rook upstairs. Stairs, stairs. Stairs! Ma gliel'ho detto stairs! Ma gliel'ho detto che era stairs! Ma porca puttana! Niente. Niente. Impossibile capire i call out di Rashid. Niente. Ma tra l'altro io ho pure questo nuovissimo operatore, ragazzi. Io lo picco subito. Ma quanti ciondoli di merda c'ho? Ma... Lo metto. L'ho messo. Madre di Dio, l'ho messo. Jäger. Jäger, put a BS here. One year, one year. No year, here. In this wall. Ma è la mia abilità che cosa fa, ragazzi? Perché io ho preso questo coso inconsapevole di... Di tutto, praticamente. Piazza una trappola che ammazza la gente. Cazzo. Bloods on the window. Ah, oddio. Cioè, chi passa lì scoppia? Porca troia. One is aquarium. Poccarium corridor. Coglione. Buona questa trappolona, sè. Ma ti avvisa pure quando il coglione entra nel raggio d'azione. Watch out. Bloods, bloods outside, bloods outside. Good job. Il sondolo gabbo di Squared. Due cazzo di kill. Good job, guys. Andiamo in kitchen. Dev'è qualcosa di talentuoso per kitchen. Prendo a runi. Abbiamo perso già Caveira. Bene. Caveira è morta. GG. No, son finito. Vaffanculo. Situazione critica. I think one is in sight. Help. One friendly operator remaining. Off for last up standing. Down to 50 secondi. Vaffanculo. Vaffanculo. Slacciati da una cazzo di mucca. Io riprendo questa signora. Ok. Io difenderò il piano di sopra. Sì, però se siamo tutti sopra nessuno sta in cucina. Ma porca troia. They are upstairs upstairs. E bravo Pulse. Non sta fiozzando. Ma che cazzo ha fatto con la rotation? Displanting. Good job, my friend. La peggior rotation della storia. Però abbiamo vinto. Let's go. Non è entrato in un gioco da mille anni. Entro con il costume da mucca gonfiabile gigante. Glaccio un cazzo di round 1v3. E porca troia vinco pure. Allora, my friend. Why band club? Oh, this is... Because it's bad map. Why band club? Ban montagna. Impossibile bannare montagna. Dai, che forse questa partita si gioca a Clash. Non possono votarla pure questo cazzo di game. Dai, porca troia. In tutta la sera, almeno una volta la posso usare. Niente, madonna. Porca puttana. Che pallo. C'è tanta di quella roba da bannare ogni volta. Giocatore medio di Rainbow Six. Eh, non so che cosa bannare oggi. Eh, banno Clash. Sì, banno proprio Clash. Eh, amico, un tramezzino. Porca troia. Sono andati al piano di sopra. Questa è stata una mossa il quanto incauta da parte loro. È stata una mossa il quanto incauta andare al piano di sopra. Ah, hanno ostruito le finestre del piano di sopra. Che palle, da qui non posso più piccare nessuno. Bene, due compagni a terra. Molto bene. Allora, devo provare una mossa sacra qui. Regà, devo fare per forza questa mossa. No, 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 no. È stato un pochettino. Impossibile. Che palle. Prendo i banni adesso. È colpa del costume che non mi ha fatto mirare bene. Merda. One is Caveira. Caveira, open sea. Open area. Aspetta, troia. Open area, Caveira. And vigil, guys. Non è difficile da capire. Ok, l'ho vista. L'avete vista, è sotto la scrivania. One is Small Room. Small Room. One. Small Room, guys. Done. One. I'm breaching. Oh, yes. Yeah. Merda, can you drop me defuaser, please? Thank you very much. I'm going to plant. Yeah, I think one is behind the mira. Wait, go away. Yibana, go away. C4, C4. Good job, guys. I'm already eliminated. Bravi. Bravi. Ma questo l'ha scopato. Questi usano sempre Kaid. Infatti sono un po' dei facoceri questi. Infatti, ragazzi, mi sa che userò pratica persuasiva della DoKB che passa da garage. Watch out from Caveira, guys. Watch out. Non lo credo. Dovete se è chiaro o se c'è qualcuno in there? Eh, no, non ho nessun drone qui. Plante. Ma come stanno plantando, ragazzi? Sto calling, sto calling. Sì, hanno un echo. Sì, hanno un echo. Sì, sono morto. Sì, ragazzi, aspettate, aspettate. Ma perché sono andati subito a plantare? Sì, 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 sì. Nice. Sì, è stato un echo drone up on the roof. I'm going to write off. What? Dai, ma come faceva a saperlo? Eh, Caveira coming from the stairs. Nice. Good. No. No problem, no problem. Prendo a rune. Non muore. Low HP Twitch. Mainsters, mainsters. Stai, mi plant. Ma questo Twitch, ragazzi, c'è 50.000 colpi. From behind, from behind, ecco. Watch out. I love you, your hat. Watch out. Ma porca troia. Spare quello col defuser. Madre di Dio. Good job. Non si sa nemmeno come cazzo abbiamo vinto questo round. Good job, good job, good job, good job. I think it's better at office. I think office is better, guys. No, perché stiamo andando qui? Perché stiamo andando qui? Qui è una merda. Qui lo sbocco totale. Can we please leave two reinforcements for the hatcher? I'll make them. Yeah, I'm going to reinforce. No problem. Okay, thank you. Questo tipo è così gentile, ragazzi. Penso che le persone gentili su questo gioco siano più rare di vedere 5 sub regalate da Kotsu. Le sub che ha regalato in questo canale Kotsu, ragazzi, sono zero. Quindi tirate voi le somme. Don't pick too much, guys. Watch out upstairs. Sledge that upstairs. Good job. Allo, my friend. Stompato. Allo, allo. Thank you. I don't like bank. Questi sono forti. Can we ban Caveira? Yeah, cut, cut. Thank you, guys. Thank you, thank you. Sì, si gioca pure Clash. Vabbè. I'm main Clash. Come parla questo? Ma questo parla com'era shit. He's picking you, he's picking you. No problem, no problem. No problem, no problem. No problem. No problem, guys. No problem. Ok, qui non abbiamo dovuto sgravare, ragazzi. He's outside, guys. Good job, good job. Però io non voglio finire questa partita senza neanche una mossa del Jaguar, ragazzi. Non ci sto dentro. Mossa! Jaguar, no! What? Come cazzo ha fatto? Quello scudo di merda di BB l'ha salvato, guarda. Sì! No, ragazzi. Cioè, non è possibile. Ma che cazzo è? Manco da freu. Porca torino, me l'ho ucciso così. Ma puoi essere ucciso da una gomitata di calcio di fucile? Che gioco di merda, ragazzi, veramente. Prendiamo Ace. Io nel frattempo mi sta, mi sta come si dice, mi sta ingloba... Mi sta inglobando la mucca. Ci vuole tipo la gru per alzarmi. Come il video di... Vite a rischio. Sì, come il tipo di vite a rischio. Perché cazzo la pancia sconfina con la cazzo di scrivania, quindi non riesco... Porca torino! Ragazzi, contrapali! Mi ero incastrato. Mi ero incastrato. Devo provare una kill da qui. Non c'è altra soluzione. Non ci credo. C'era davvero uno. Ma porca puttana. Aruni, solarium... Fai una... Fai una capriola? No, no. Se faccio una capriola si donano 10 sub. No, sono troppi pochi. Mi faccio malissimo e esplode il costume. Non la faccio. Riprendiamo Acio il pulito che mi piace. Devi vedere la faccia felice del tipo sulla copertina del costume. Eh, purtroppo l'ho tirato. Il tipo con la copertina del costume. Aspetta, te la devo far vedere, Giacomo? No, tu devi vedere la faccia di questo signore. No, tu devi vedere la faccia di questo signore. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Tu dimmi che cosa ride questo Tu mi devi ridere Cosa ride? Cosa c'è da ridere? Cosa c'è da ridere? A parte tu mi hai tipo tutto A lui sta bene Ok potrebbero esserci dei problemi ora però Potrebbero esserci dei problemi No raga mi devo Mi devo sgonfiare un po' Non è possibile No non puoi alzare in piedi No mi devo sgonfiare un po' Non riesco Alzare in piedi Non ci sto Mi tendi Mi tendi proprio questo Jager blu Jager blu guys Good good job Io picco glaz Un pazzo nel cervello No 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 my friend On blue On blue What the fuck Ma no No Però avete visto che tattica Ho buttato la fumogena Sapevo che era lì Ho fatto finta di entrare Ha scaricato tutto il caricatore di mp5 E poi sono entrato Way to mucca smart Ho ucciso anche un compagno di squadra Quindi tripla kill sto round Sta procedendo tutto bene ragazzi Salutiamo i nostri compagni Hello guys Doppio streaming mucca e clown A coglione Fatela rigiocare E c'è una marchia che fa parla One is injured bathroom Bathroom is injured No One is injured bathroom Good job my friend Bravo Mi sono pure preso la kill No Mamma mia il suino No Che palle Cazzo non ci credo Prenderò un simpaticissimo Jager Merda Yana down yellowsters The yellowsters 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 Cazzo ragazzi Good job Good job Bravo Ci portiamo subito a casa anche questa partita Aruni E let's go Good job Bravi Let's go Prendo Iban Ma che cazzo Good job Distrutti Distrutti Polverizzati Annientati Annichiliti Io non ho fatto un cazzo Eeeh Raga Questi compagni sono veramente fuori di testa comunque Questi compagni sono fuori di testa completamente Guarda Sono pazzi Ma sono fuori di testa Nice job Sorry sorry Merda Oh 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 Flash Non trovo nemici Ma non c'è nessuno E' impossibile E' impossibile fare qualcosa in questa partita ragazzi Io riprendo Clash Con il costume da mucca Io lo distruggo Io lo distruggo bro questo Imponente One installers No Two enemy installers Che palle E' 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 Si vince subito Boom 3 1 2 un 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 u u u u u Grazie a tutti.